Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd Ed eccoci qui con l'ultimo video delirio del giovedì mattina dedicato a What If, prima serie animata targata a Marvel Studios su Disney Plus E su Disney Plus è appunto disponibile il nono e ultimo episodio della prima stagione di What If, la seconda arriverà Non so se è una minaccia o una promessa, tuttavia arriverà, ebbene sì E quindi in quest'ultimo video delirio che cosa facciamo? Parliamo di che cosa è successo? Di una raoba che mi ha fatto quasi, non so, eruttare fuoco stile drago C'è stato un momento in cui ho dragato quasi di brutto, sì, i mobili sbrucciacchiati lo testimoniano E di che cosa succederà nel Marvel Cinematic Universe? Non riesco neanche più a parlare Ho dragato talmente tanto che adesso non riesco neanche più a parlare Ma importantissimo! Domenica 10 ottobre alle 21, ci vediamo qua in live per parlare assieme del finale di What If Con un ospite, anzi un ospito estremamente interessante Il cui nome fa rima con Brontoloschi Ecco, comunque sì, entriamo nel vivo di questo video delirio Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare Ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopoliner Cliccando su tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche Anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima E se volete supportarmi oltre che sopportarmi Trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video Come la fantastica piattaforma Ko-fi La mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo E andate a scoprire che cosa vi garantisce il mio codice personale Cosmo su Pampling Sito di magliette Erticoli Nerd Ebbene, ciancio le bande e partiamo, va? Sigla Tenetevi forte perché inizierò con la citazione di uno dei momenti Che mi hanno più traumatizzato all'interno del Marvel Cinematic Universe In particolar modo in The Falcon and the Winter Soldier Allora sei tu, Power Walker? Sì, perché in quest'ultimo episodio della prima stagione di What If C'è Georges Batroc Io non ce la faccio più a vedere quell'uomo Ma non perché sia un brutto uomo, assolutamente no O un brutto personaggio E che mi viene quel flash di Allora sei tu, Power Walker? Dell'ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier Quindi veramente Molto bene, dopo questa intro molto wow Ok? Direi che possiamo parlare di che cosa è successo in questo episodio È successo un sacco di roba Veramente un sacco di roba Infatti ho un sacco di roba scritta Su il mio blocchettino per gli appuntini analogici Adesso tra l'altro sto usando l'inchiostro blu E non ci capisco più niente dopo anni che usavo solo ed esclusivamente l'inchiostro nero Tornerò a usare l'inchiostro nero, sapete? Quindi è bello perché in quest'ultimo episodio Che mi è piaciuto, devo dire nonostante la roba che mi ha fatto sputare fuoco Alla House of the Dragon maniera Vi dicevo mi è piaciuto perché va a unire tutti gli universi narrativi Che abbiamo visto nei precedenti otto episodi della prima stagione di What If? Anche quello dell'episodio tagliato Del famosissimo episodio numero 10 Perché infatti mi puppa lì Gamora a caso completamente Dando per scontato che noi la conoscessimo È un po' tipo la Contessa Vallespluga in The Falcon and Winter Soldier Che noi avremmo dovuto vedere precedentemente in Black Widow E invece la vediamo lì, la Contessa Val che dici Ma che cazzarola è questa? Presentato in un modo come se la doveste a conoscere Tuttavia lì sono stati problemi Come sapete produttivi dovuti a voi sapete cosa Quindi ci mancherebbe altro Ricordiamoceli tutti Primo episodio Captain Carter Secondo episodio C'ha la Starlord Che finisce con Ego, pianeta vivente Che va a ciucciare la vita dal figlioletto adorato Peter Quill Episodio 3 Quello in cui tutti gli Avengers muoiono per mano di Ant-Man Però con diciamo il viso di Hank Pym Che finisce con Fury che trova Captain America Versione ghiacciolo, versione popo, 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 l'aretto Poi episodio 4, Dark Strange Episodio stupendo che è quello che mi piace Che mi è piaciuto di più indubbiamente Episodio 5, zombie Dove c'è, viva per quanto zombie Vandona nazionale E poi episodio 6, Killmonger cattivissimo Che diventa Black Panther e fa fuori tutti Episodio 7, il meravigliosissimo episodio compartitore Episodio 8, quello con Ultron, Natasha Insomma, tutte stemenate qua Ok Quindi è bello perché ritroviamo Link con tutti Perché che cosa fa Watu con la collaborazione di Dark Strange? Va a prendere tutti questi eroi o pseudo tali Nelle varie dimensioni che abbiamo visto finora Anche nella dimensione fantasma dell'episodio tagliato Ecco, stupenda questa cosa Quindi Watu che cosa fa? Watu sta ai guardiani del multiverso Questo team fantastico, multiversale Appunto creato nell'ultimo episodio Della prima stagione di What If Come Nick Fury style Avengers Mi è piaciuta anche sta cosa Il fatto che per convincere Partitor ad ascoltarlo Ho dovuto prenderlo nel pugnone Tipo King Kong Mi è piaciuta molto questa cosa E devo dirvelo In questo episodio ho trovato Partitor Meno irritante Perché è sì, sempre un cazzone Veramente che dà abbastanza sui nervi Ma in questo episodio l'ho trovato appunto meno irritante Anche il momento di lui che scaglia i fulmini Con il Mjolnir gridando Viva Las Vegas Mi ha strappato un sorriso Addirittura si mi ha strappato un sorriso Ecco, e rido dicendolo Perché non ha alcun senso, vedete Ma comunque questo è un video delirio Come al solito Quindi, allora Gamora Gamora, versione Thanos È una Gamora che ha sconfitto Thanos Perché vediamo che effondono Un guanto dell'infinito Vuoto, soprattutto senza gemme E c'è anche un C'è anche un Tony Stark Con un'armatura Un po' diciamo D'eccezione, ecco E c'è Watu che prende Gamora Questa Gamora che ha una pressa Per la pressa dell'infinito Se non sbaglio Per distruggere le gemme dell'infinito Che sarà servita nel suo episodio Ma qua non serve a una mazza Perché a quanto pare la composizione Di ogni mucchietto di gemme Di ogni universo Di ogni dimensione differente Quindi la pressa non è servita Vabbè, nel senso Ci sono state delle cose All'interno di questo episodio Che mi hanno fatto dire Eh? Però poi Mi sono fatta trascinare dal flow Tanto c'è quella roba magna 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 grossa Di cui vi parlerò Dopo che non torna tanto Comunque L'episodio tagliato Quello lì Con Tony Stark E Gamora È praticamente Se Tony Stark Alla fine di Avengers Quando tira sul missilone Per non far Diciamo Esplodere la Terra Invece di salvarsi E tornare sulla Terra Fosse andato alla deriva Nello spazio Fino su Sakaar Sakaar Avete presente? No? Il pianeta immondizia Del gran maestro Dove abbiamo conosciuto Hulk gladiatore In Thor Ragnarok Ecco quindi Praticamente Doveva essere Una commedia Un po' demenziale Anche se ad un certo punto Poi Gamora Uccideva il padre Thanos Quindi Quanto commedia Insomma Effettivamente Sarebbe stato Un episodio interessante Da vedere E perché So che Era questo episodio qua Che è stato tagliato A parte Che ce lo suggerisce Tranquillamente Quest'ultimo episodio Beh da un set Lego Che proprio Chiama Tony Stark Tony Stark Versione Sakaar Con evidentemente Un'armatura costruita Con i pezzi di ferraglia Trovati Nei mucchi Di immondizia Su Sakaar Quindi Peccato Che sia stato tagliato Questo episodio Quindi non era Quello di Spider-Man Che era troppo horror Dannati rumors Errati Sul Marvel Cinematic Universe Mi avete Veramente Fregato Un'altra volta Ecco Da notare Che all'inizio Dell'episodio C'è Captain Carter Che sostituisce Steve Rogers All'inizio Di Winter Soldier Perché infatti Ci sono questi scambi Brillanti Con la vedova nera Lì loro sono BFF Best friend forever Insomma Robbe così C'è George Batroc Allora sei tu Power Booker Scusate È un riflesso Incondizionato Pavloviano Ormai Batroc Allora sei tu Power Booker A me è piaciuto Molto Il fatto che L'inizio Dell'episodio Sia l'inizio Di Captain America Winter Soldier Vi è piaciuto Un sacco Questa cosa E poi vabbè Come vi dicevo Tutti gli eroi Vengono ripescati Uno da lì Uno da là L'episodio L'episodio Quello di Killmonger Che diventa Black Panther In sei Anche se ci sono lì Pepper Potts E la sorella Shuri Armate fino ai denti Ha fatto Ma a me ha fatto un po' Ridere pure sta scena Così continua A confermarsi Un episodio Tronco Perché anche quei Pochi frame Che abbiamo visto Non è che vanno A spiegare O aggiungere Chissà che Ed ecco qua E effettivamente C'è questo scontro Senza esclusione Di colpi Tra i guardiani Del multiverso Che sono Abbastanza delle pipe Se non fosse Per Dark Strange Diciamocelo Ecco E riescono A sconfiggere Ultron Anche se Ultron Ad un certo punto Si chiede Ma io riesco A distruggere Interi universi Com'è che voi Non riesco A farvi fuori E ce lo siamo Chiesti anche noi Però va bene Così Sospensione Dell'incredulità Mi è piaciuta Tantissimo La scelta Registica Di rendere Certi passaggi Di questo Mega combattimento Wata Da notare Che salutiamo Watu Watta Che non è molto Watta In questo episodio Effettivamente Ovvero Nel concentrare La Camera Se così La vogliamo chiamare Su Ultron E vedere I colpi Che gli arrivavano Contro Di tutti i vari Guardiani Del multiverso Poi anche quando La camera È rimasta ferma Sulla gemma Dell'anima Per terra E si vedeva Tutto il combattimento Attorno Tipo Captain Carter Che ad un certo punto Allunga la mano Però viene stoppata Da un colpo Insomma È stato Ci sono state Alcune soluzioni Registiche Che mi sono piaciute Molto in questo episodio È bello Perché con l'animazione Si può spaziare Veramente tantissimo E quindi sì Ci sono alcune cose Che mi sono piaciute Veramente tanto Da un punto di vista Estetico In questo episodio E poi Vabbè Mi è piaciuto Il finale In cui vissero tutti Più o meno felici E contenti È bello Il fatto che Captain Carter Decide di fare L'eroina E di tornare Nel proprio mondo Anche senza Steve Anche se sembra Averlo trovato Steve All'interno Dell'Hydrastomper Ovvero Della Insomma Dell'armatura Che gli è stata Costruita da Howard Stark Appunto nel primo episodio Chissà come sarà Sarà stato congelato Criogenato O magari è stato Trasformato In Winter Soldier Non lo so Chissà se Questi episodi Avranno un seguito Nella seconda stagione Di What If O saranno tutti What If Nuovi O magari un po' E un po' Insomma Lo vedremo Assolutamente E poi mi è piaciuto Anche il fatto Che Natasha Visto che il suo mondo Era distrutto La Natasha Quella dell'episodio 8 Venga portata da Watu Nell'universo Dell'episodio 3 Quello in cui muoiono Tutti gli Avengers C'è Nick Fury E c'è Captain America Ma Natasha Era stata uccisa Da Hank Pym All'interno di quell'episodio Lì Ed è un universo Senza Natasha Ecco Ma fatto un po' C'è Non so A capponare Il cappone Il fatto che Arrivi Nick Fury E dica Tu non sei la mia Natasha Però hai lo stesso spirito Vedo in te lo stesso spirito La mia Natasha A voi Ha dato le vibes Da Sugar Daddy C'è la mia Natasha Che cosa sei? Cioè Possiedi Natasha Romano Però Vabbè Ok è stato usato In termine così Tenero Dolcioso Però Anche meno Nick Fury Cioè Ok Non so Non credo che tu Verso Tony Stark Avresti detto Ah tu non sembri il mio Tony Però Hai il suo stesso spirito Vabbè Comunque Cringino Bababia Comunque Vabbè È chiaro Dark Strange È sempre il più figo di tutti Cioè Ma Non c'è proprio Gara Anche se Gamora Questa Gamora qui È alquanto figa Ha anche la Gamora normale È un personaggio estremamente figo E ci mancherebbe altro Poi Allora Una roba che Alla fine Non è che mi ha fatto proprio Svalvolare In positivo È stato il fatto che Watu L'osservatore Abbia previsto tutto E sapesse tutto No? Quello che sarebbe successo Eccetera Quindi ha chiamato Infatti quando tutti ci chiedevamo Ma perché ha chiamato Killmonger Black Panther Che si sapeva che è un billanzone No? Perché l'ha chiamato? Eh perché in realtà Sapeva che poi Alla fine Avrebbe voluto Le gemme dell'infinito Per sé E quindi Automaticamente Sarebbe rimasto A contendersele Con Visione Con dentro Lo spirito Digitalizzato Di Armin Zola E quindi Dark Strange Poteva metterli In una situazione Di stasi E poi sacrificarsi Per fare Da guardiano A questa Bomba Orologeria Potenziale Per L'eternità Ecco Ecco Watu Che ha già previsto Tutto Vabbè Ok Però sappiate Che nei fumetti Come superpoteri Ha la chiaroveggenza E la precognizione Quindi Cioè Effettivamente ci sta Non è che mi è piaciuta Tanto Sta roba Tu avevi previsto Tutto E vabbè Comunque Ecco Ma non è questa la cosa Che mi ha fatto Sputare fuoco È un episodio È un episodio Che mi è piaciuto Con qualche Ma Però è stata una buona Conclusione Di questa prima stagione Se non fosse Per questa cosa Allora Sapete che Io Diciamo Sono abbastanza Tranquilla Nei confronti Dei prodotti Dei Marvel Studios E cerco Di andare Più A vedere Se sono stati Intrattenenti Oppure no Ci sono momenti In cui Veramente Vado giù di testa Come con L'episodio Di partitor Però Nel senso Cerco di vederli Come prodotti Di intrattenimento Tuttavia Ci deve essere Poi una coerenza Interna Soprattutto Quando poi Si cominciano A tirare le fila Della trama orizzontale Di un prodotto Seriale Ecco Da notare Che poi Il Marvel Cinematic Universe Cinematograficamente È tutto un insieme Di episodi Cinematografici Che vanno a creare Una lunghissima Sequenza È come se fosse Una serie tv Però Ogni episodio È un film Quindi Loro ce l'hanno In mente La sequenzialità Perché poi Mi vanno a fare Questi errori Sciocchi Perché è un errore Sciocco No Allora Come finiva L'ottavo episodio Finiva con Clint Barton Ovvero Okai Occhio di falco Che si sacrificava Per salvare Natasha Romanoff Natasha Romanoff Che aveva con sé Un baby ultron Con All'interno Dei propri sistemi La coscienza Digitalizzata Di Armin Zola E che cosa Serviva la coscienza Digitalizzata Di Armin Zola All'interno Di uno di questi Baby Ultron Per raggiungere Da una Delle api Operaie Dell'alveare Facciamo questa Metafora L'alveare Stesso Ovvero La peregina Che è La mente Di Ultron Solo che non è riuscita A raggiungerla La coscienza digitalizzata Di Armin Zola Che non è Zola Ma è Zola Stavolta Lo sono ricordato Oh yeah Perché appunto Era fuori campo Era un po' Distantino Perché era In un altro Universo In un'altra dimensione E quindi Non so voi Ma io mi sono detta Vabbè Chiaramente Nel prossimo episodio In un modo O nell'altro Wato Riuscirà a portare I guardiani Del multiverso In quella dimensione Lì In quell'universo Lì Così Ultron Li segue Arriva lì E il Baby Baby Ultron Ho detto Baby Yoda Prima Ho sempre detto Baby Ultron Vabbè Molto bene Comunque un video delirio Perciò questo e altro Dovete aspettarvi Dicevo Perché così Il Baby Ultron Con dentro La coscienza digitalizzata Di Armin Zola Sarebbe riuscito A penetrare All'interno Della mente Di Ultron E sarebbe riuscito A fare le cose Che doveva fare No sostanzialmente Ecco Peccato che Questo Baby Ultron Con dentro La coscienza di Armin Zola Dall'ottavo Al nono episodio Ce lo siamo Completamente Dimenticati Ora Io capisco Che Natasha Sarà stata in preda Alla frustrazione Di aver visto Il suo Miglior amico Da sempre Morire Per salvarla Sacrificarsi Per salvarla Ma visto Che effettivamente Quel Baby Ultron Lì Poteva essere Anzi Era L'unica Speranza Di salvare Il proprio mondo Anzi Il multiverso Intero Ce lo dimentichiamo Ma Tranquilli Ce lo dimentichiamo Lei lo avrà preso A calci Per la frustrazione Gli avrà magari Sparato Facendogli saltare Un altro Arto D'altrano Gli rimanevano Due braccia Quindi insomma Poteva sfogarsi Ancora un po' In effetti Gli serviva Solo ed esclusivamente La testa Che fine ha fatto? Questa arma Incredibile Contro il super Cattivone Ultron Visione Con le gemme Dell'infinito Dove L'abbiamo Lasciato Non lo sapremo Mai Ma io dico È così Fondamentale Questo passaggio Questo baby Ultron Zolaniano E ce lo dimentichiamo Da un episodio All'altro Così Come se niente Fosse Senza fare Un riferimento Neanche di Cinque frame E faccio Quattro Con la mano Molto bene Cinque frame Appunto Al baby Ultron Zolaniano No Niente Ce lo dimentichiamo Completamente E già questo Mi ha fatto salire Su un po' Di acidità Ed ero pronta A eruttare Fuoco Come un drago Ma cos'è Che mi ha fatto Eruttare Fuoco Come un drago Il fatto Che durante Lo scontro Wata Così Completamente A caso Che cosa fa Natascia Trova La sua motocicletta E accanto Alla sua motocicletta L'arco Di Okai E La freccia Su cui avevano Caricato La freccia USB C'è la Penda USB E la freccia USB Su cui avevano Caricato La coscienza Digitalizzata Di Armin Zola Che hanno piantato All'interno Di quel Baby Ultron E appunto Lì si è trasferita Per riuscire poi a raggiungere L'alveare Ovvero la mente principale Ovvero quella di Ultron Com'è possibile Che l'arco di La sua freccia Ma l'esplosione Di decine Decine Di Baby Ultron Com'è possibile Che quella freccia Lì E l'arco Siano ancora Integri Dopo un'esplosione Del genere E soprattutto Com'è possibile Che Natascia Li trovi Guarda caso Proprio vicino Alle ruote Della propria moto Così Pronte all'uso E Cioè Neanche per dire La corda Dell'arco Si era sfilacciata Si era rotta No Integro Dopo un'esplosione Pazzesca Tutto a posto Tutto normale Tutto okidoki E lì Veramente Cioè Allora Ok Poi il discorso Che Armin Zola Anche lui è cattivo E non è diventato Un eroe All'interno di What If Che sarebbe stata Una cosa Out of character Completamente fuori Dal personaggio L'hanno rispettata Perché resta Comunque Un cattivo Fino alla fine E c'è stato Questo plot twist Che ci aspettavamo Che era Che era ovvio Che lui ha distrutto Ultron Però poi c'è Lui da distruggere E quindi È un casino No Ed è bloccato In quella stasi Con Killmonger Versione Black Panther Ok Ma quel baby Ultron Alla fine Dell'episodio 8 Che fine ha fatto Com'è possibile Che una freccia E un arco Siano sopravvissuti Così Tranquillamente A un'iper Mega esplosione Com'è possibile Che Natasha Li trovi Proprio In quel momento Lì Proprio nel momento Del bisogno Wow Cioè Quest'ultima parte E vabbè Appunto Sospensione Dell'incredulità Va bene Ci può anche stare Però Tutto il resto Veramente Altro che Altro che Dracarys Ragazzi Cioè Una roba Allucinante Allucinante A me Ha fatto Un pochino Andare fuori De capoccia Comunque Se volete Vi dico Ancora una volta Ma lo Sei tu Per stemperare Un po' La tensione La situazione Però Veramente Li ho dato Di matto Cioè Perché Non si può Commettere Un errore Così sciocco Perché È un errore Sciocco Che si può Facilmente Correggere In un modo Nell'altro Potevano far Vedere Che so Natasha Nell'ottavo Episodio Che Menefreghista Del pericolo E delle conseguenze Sparava un colpo In testa Al baby Ultron Versione Arminzola E così Poi lo mollava Lì E poi Ok Trovava la freccia Che era sopravvissuta All'esplosione Oppure se la poteva Portare dietro Lei la freccia E non lasciarla Lì Cioè Vabbè 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 Capite Capite Cioè Va bene Sì Marvel Studios Sono prodotti Di intrattenimento Che devono Prima di tutto E soprattutto Intrattenere Ed emozionarti A parte che De emozioni In questa prima Stagione di What If Veramente Queste sconosciute A parte Un paio Di episodi Ecco Però Ragazzi Cioè No Questa roba Non si può Il mio cervello Ha fatto Sciopero Forever E quindi Con il cervello In sciopero Forever Parliamo di Che cosa succederà Nel futuro Del Marvel Cinematic Universe A questo punto Visto che What If Almeno la prima Stagione di What If È terminata Boh Cioè Nel senso Che ricadute Può avere La prima Stagione di What If Sul futuro Del Marvel Cinematic Universe A questo punto Mi viene da pensare Che vedremo In versione Live Action Watu L'osservatore Che adesso Ha riconquistato La sua posizione Di stalker Nella sua Cameretta Del maniaco Che osserva Tutto No Effettivamente Col multiverso Nella fase 4 E forse anche 5 Sicuramente anche 5 Del Marvel Cinematic Universe Versione Live Action E non solo Vedremo magari Watu Vedremo Watu Interpretato Da colui Che gli dà la voce In Watif Ovvero Jeffrey Wright Perché no Lui sarebbe Perfetto Per interpretare Watu Certo Gli dovrebbero Fare la testona Tipo Mars Attack Però Nel senso Che problema C'è No Col trucco E non parrucco Si possono fare Miracoli E non Quindi Secondo me Vedremo Watu Mi sembra La conseguenza Più giusta Più ovvia L'abbiamo conosciuto Abbastanza All'interno Di questa prima Stagione di Watif Quindi Lo potrebbero Inserire Senza colpo Ferire All'interno Dei live action O serie O film All'interno Del Marvel Cinematic Universe Poi Secondo me Ci sono chance Di vedere Versione live action Captain Carter Sarebbe un bel modo Per dare una rispolverata Al personaggio Di Peggy Carter Potrebbe magari Arrivare In Captain America 4 Quello con Falcon Che diventa Captain America Cioè È già diventato Captain America Però il film In cui Falcon È Captain America E potrebbe arrivare Captain Carter Non lo so Ci sarà ancora Il multiverso Quando uscirà Captain America 4 Non lo so Comunque Captain Carter Versione live action Mi interesserebbe Abbastanza Ma mi interesserebbe Sicuramente Di più Dark Strange Cioè Dark Strange È troppo figo Con tutti Quei mostroni Pazzeschi Che gli escono Dal corpo C'è una figata Allucinante E poi finalmente Sdogana Come elemento Cool Le occhiaie Quindi Evviva Dark Strange Evviva le sue Occhiaie Anch'io sono Dark Giulia Ecco E poi Un'altra roba Che potremmo vedere Anche se Io vorrei Perché potrebbe essere Interessante Ma secondo me Non la vedremo Tuttavia Fatemi fantasticare Datemi questa chance Per piacere Ecco Avete presente Il cristallo In cui Ci sono Visione Con dentro La mente di Armin Zola E Killmonger Versione Black Panther Che si contendono Le gemme dell'infinito Ecco E se quel cristallo Li si rompesse E se loro Tornassero Nella realtà Nella realtà Live action Sarebbe un modo Per inserire Di nuovo Killmonger All'interno Dell'universo Dell'MCU Sempre che qualcuno Di voi Senta la necessità Di vedere Ancora Una volta Killmonger Versione Live action Io Non particolarmente Però sicuramente È stato un personaggio Interessante Avrà tantissimi Fan magari Anche tra di voi Quindi magari Quello si potrebbe Vedere Si potrebbe Ricicciare fuori Armin Zola Si potrebbe Ricicciare fuori Il corpo di visione Si potrebbe Ricicciare fuori Killmonger Oppure È meglio Andare a scavare Nelle pile Di pattume Presenti Su Sakaar Io ve lo dico Vedendo What if Speravo Che la mia Preoccupazione Riguardo a Come il Marvel Cinematic Universe Tratterà il multiverso Ecco Pensavo che Scemasse Mi rassicurasse Un po' Della serie Ma no Riescano a fare Le cose Fatte bene Figurati Ecco E più vado avanti Più temo Riguardo Il multiverso La gestione Del multiverso Temo che Ci saranno Tante robe Che non torneranno Già 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 In Loki Ci hanno Dato Un assaggio Che poi Per l'amor Del cielo A me Loki è piaciuta Non solo per Alligator Loki Che vedete qua Sulla mia maglietta Ma soprattutto Per old Loki Classic Loki Personaggio Nel cuore Forever Anche se L'ho visto pochissimo Però love Assoluto Ecco Però Nel senso Allora Io Ho paura Assoluta Per Spider-Man No Way Home Ho paura Che facciano Un casino Intergalattico Anzi Interdimensionale Una roba Che c'è Quello non è Dottor Strange Allora chi è E me è visto Oppure no C'è nel senso Ho il terrore Ho il terrore Ho bisogno Di un prodotto Del Marvel Cinematic Universe Che mi inserisca Il multiverso E me lo gestisca Bene Bene Perché a volte Spesso Si perdono In dettagli Sciocchi Come questo Baby Ultron Verdognolo Con Arminzoa Dentro Che se lo perdono Da un episodio All'altro Che è una cosa Semplice Quella Non è molto Difficile Figuriamoci Nel gestire Una cosa Complessa Come il multiverso Ora Ditemi voi Anche voi Siete un po' Preoccupati Per la gestione Del multiverso Nell'attuale Nelle future fasi Del Marvel Cinematic Universe Anche voi Pensavate che What if Vi potesse dare Più speranza A riguardo E la speranza Anche lei Come le emozioni What if Quasi queste Sconosciute Ecco Non so Ditemi voi Che cosa pensate Se avete anche voi Paura per Spider-Man No Way Home Cioè nel senso Wow Intrippamento Di brutto Ma anche il terrore Che poi le cose Non quadrino Alla fine Ditemi che cosa Ne pensate Di what if Chiaramente E soprattutto Del multiverso Perché io me lo sento Io me lo sento Sto multiverso Diventerà Un minestrone Di roba Che non riuscirà A tornare Ed ogni cagatona O cagatina O cagata Media Che faranno Poi andranno Giù di retcon Come se non ci fosse Un tomorrow E io detesto Le retcon Le detesto Dal profondo Del mio cuoricino Delirante Se questo video Vi è piaciuto Come è piaciuto Al migliore dei mali Il fantastico fumetto Di Violetta Roxy Di cui trovate I link Amazon In descrizione A questo video Allora dovete fare Sempre le solite cose Vero mettere mi piace Lasciare un commento E iscrivervi al canale YouTube di Cosmopoliner D'attivando anche La campanella Delle notifiche Ovunque Sia Che è sempre Una cosa importantissima Altrimenti Altrimenti Mentre gesticolo Do un coppettone A il mio blocchettino Degli appuntini analogici E succede Un patatrack Peggio del multiverso Nel Marvel Cinematic Universe